Allora Ricchi, che giorno è oggi? 20 Dicembre Eh? L'ultimo dell'anno E dove siamo? L'Azzo di Maggio E questo sono il veterano della Malvina? E adesso è un veterano della Malvina? Eh? Buonasera, qui siamo? E? Allora, oggi è il 31 Dicembre del 2009 Ci stiamo avvicinando al 2010 Speranzosi In un proficuo 2010 Alle spalle abbiamo la Casa Rosada E di fronte abbiamo il Cabildo Dove ha lavorato anche il nonno L'Abuelo E... Niente, stiamo guardando qui Il coso della Malvina Volevamo vedere se per caso c'è E troviamo ancora il Poltronieri Che non ci aveva... Abbiamo conosciuto Uno che aveva già la medaglia della Malvina Ecco, questo è in definitiva Il chiosco dei veterani della Malvina Però sembra che stanno dormendo Che non c'è nessuno Vogliamo salutare Ma sembra che non si può salutare a nessuno Buono, le desee un feliz 2010 A tutti E... Che non è mai Seguimmo Buscando plata Perché non... Non possiamo Tirare le poveri Plata del banco Buono, ciao che stiamo a cominciare? Oscar, che stiamo a cominciare? oggi stiamo con la comida fria, Buffet Freud iniziamo da qui? qui abbiamo pollo in escabeche qui abbiamo Vittel Tonè e questo? questi sono tomate relleno e questo? mayonezza qui è fatta con Roberto e la insalata múltiple bene, al final siamo pronti siamo pronti? siamo pronti falta Carlo come sempre come sempre falta questo ultimo Horacio hai arrivato nel 2010, Horacio guarda che reporter guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda che differenza col suolo Tomo, Tomo anche Photoshop allora? guarda lì no questo è un parco da in tutte le carroças dove? qui da in tutte le carroças che giorno è oggi? c'è che è feo se non risalza che giorno è c'è oggi? che giorno è mamma il primo denaro del 2010 Tu sapevi che a Ciutadella c'è il museo dell'esercito? Il flotageno è quando si fai. Il flotageno è quando si fai un altro. Il flotageno è quando fai un altro. Il flotageno è quando fai un lato. Se fai un lato di piso di madera e stai un sol. Alla prossima! Sì! 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 Noi qui non è! Sì qui non è? Noi qui non è in casa... Noi qui non è? Sì, sono un poverso. Esa cosa che è? Sì, è un poverso. E' una cosa che si poteva qui per farlo, per farlo, per farlo, per farlo, per farlo, per farlo, per farlo. Sì, 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 sì. guardate i piccoli un gatto? orazio! ho preso la nasa di napa o preso la nasa di napa no, preso la nasa di napa benveno a cucinok allora mira che flor mira che flor mira che flor si 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 non mi 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 Horacio, c'è ancora una flor della bruna? Si C'è ancora una flor della bruna? Si, la margarita Questa è successo? C'è ancora una colina? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.